Signor Presidente, signore e signori della Corte, nominato membro della Commissione Europea dal Consiglio dell'Unione Europea, in seguito al voto di approvazione del Parlamento Europeo, mi impegno solennemente a rispettare, nell'adempimento dei miei doveri, i trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ad esercitare le mie funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale dell'Unione, a non sollecitare né accettare, nell'adempimento dei miei doveri, istruzioni da alcun Governo, istituzione, organo o organismo, ad astenermi da ogni atto incompatibile con il carattere delle mie funzioni o l'esecuzione dei miei compiti. Prendo atto dell'obbligo istituito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in forza del quale ogni Stato membro deve rispettare tale carattere e non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esercizio dei loro compiti. Mi impegno, inoltre, a rispettare per la durata delle mie funzioni e, dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla mia carica e, in particolare, i doveri di correttezza e discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o determinati vantaggi.